secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ciao noc due mesi la ringrazio la ringrazio peccato però per questo infatti la ringrazio per l'abbonamento la saluto arrivederci arrivederci attenzione nessuno è perfetto amico mio let's go let's go oh my god faceva cagare il cazzo ma se lo curi se lo curi lo cura figa perché non schiaccia il 3 ma schiaccia lanciamole lanciamole ma cazzo faceva schifo a volte nell'ansia non riesco a premere il tasto 3 premo il tasto 4 tasto 4 sul nostro fortinite pronto fortinite ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo intanto non sappiamo bene perché volevo vedere buongiorno nike buongiorno anche a mark de fox io 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 che si spara un anno così aio 12 mesi 12 mesi ma oggi mi è arrivata una una musica che non ho mica capito ma è arrivata anche a voi questa cosa la marcia premi play uniciti alla marcia io non uso i background musicali quindi sinceramente non so dove arrivi fanti fanti meno male che guardi porco cazzo porco cazzo porco cazzo il cap porco cazzo porco cazzo porco cazzo il cazzo è il fanti che cazzo Fatey... Mamma! maledetto colui che lo ha croato ciao gravity ciao bello lo 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 aio ciao bello asso che vedi i colori merda andiamo prende pienamente Thomas laně la specie a a b a 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 Sì, sembra... Ma troia merda... Ma dai... Avevo 500 patatine in palio, figa troia. Ah, uonello, che cazzo che fa? Grazie, ah, wow! Abbiamo fatto 87 punti, con una partita in meno. Ah, una porca maiala, porca, 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 porca! Morca padon, morca padon! Ma scusi! Sì! Abbiamo addio! Zero, zero. Una promessa è una promessa... Ma Dio! Mi scusi! Ma che cosa fa? Sorpreso! Che cazzo si l'ha fatto via? Ma che cosa? Oh my god! Grazie di cuoro! Ma lei è... Che cazzo è quel rumore? Che cazzo è quel rumore? Boh... Allora, pari, c'è lei quando si deve alzare me lo dice, eh? Sì, 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 ma tanto finisco il game. L'ho già detto. Finisco il game... Non ti farei problemi. No, 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 no. Sia tranquillo perché ho già calcolato tutto. Ok. Due minuti. Lei nel turno? Sì. Mi scusi cosa? Eh, no... Nulla, lo sa. Poi quando c'è lei meglio così perché sennò... Allora, aspetta. Guardi un attimo. Buongiorno, my cry lies! La pace 19.20. Quella che stiamo aspettando oramai da più di due settimane e che dovrebbe portare nel nostro Fortnite. Ad esempio il Tornado, una delle novità che abbiamo visto nel trailer. Purtroppo però non è ancora disponibile e quindi ci tocca aspettare ancora un pochettino. Intanto grazie a Perugiacu. Grazie mille. Benvenuto con il Prime. Ovviamente. Un saluto alla moderazione. Buongiorno Tapa. Non ha mandato, non ha mandato. Ciao Nello! Loro, 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 loro. Loro, loro, loro. Ciao Nello! Wow. Mi ammazza quello che ho. I daini, i daini. Non so cosa siano però mi fido. I daini sono degli animali. Andiamo. Ah, davvero. Ciao Fede! Benvenuto con il Prime! Ciao bello! Ok. Fede sottolineatura verce dei nostri. In quanti secondi si accende il mio computer? Questo... Una ventina. Perfetto! Cari appare!